Una donna rapita da una banda di fuorileggi, un uomo onesto costretto a fare i conti con il passato, un duello all'ultimo sangue in una città fantasma, per il ciclo sotto il cielo del West, Gary Cooper in un grande classico, dove la terra scotta, giovedì alle 21.10 su dai tre.